Ciao ragazzi, ben ritrovati, siamo di nuovo qua per un altro video, la prima delle mie interviste in cui intervisterò diversi personaggi tra cui oggi abbiamo Monster of Justice alias Thomas Brillo, in quella che si spera sia una lunga collaborazione se non ci succede qualcosa come dico sempre quindi Thomas o Monster of Justice raccontaci un po' di te, esattamente chi sei e cosa ti ha portato ad iniziare questo percorso Allora io sono un semplicissimo ragazzo che vive nella provincia di Milano e ho iniziato questa attività di lotta contro il crimine, in particolare la lotta contro gli spacciatori perché? Innanzitutto penso che sia una mia vocazione perché ho iniziato questo percorso già da piccolissimo, avevo 6-7 anni all'incirca e sotto casa mia nel parchetto in cui andavo a giocare purtroppo rimasi scioccato perché ogni volta assistivo a scene abbastanza brutte per un bambino perché c'era gente che andava a farsi nel parchetto in cui andavo a giocare non droga leggera, non una semplice cannetta ma droga pesante, eroina, si andavano ad iniettare l'eroina e io quando era estate mi ricordo e quando dovevo andare a giocare fino a tardi perché dopo mangiato, dopo cena volevo andare ancora a giocare non potevo farlo perché c'erano queste persone pericolose che volevano avere il parco per loro, per farsi e rimasi proprio scioccato io e gli altri bambini ovviamente da lì iniziò ad andare col telefono, a filmare un po' le scene del degrado e per fortuna nella mia zona la situazione migliorò nel senso che quel parco sotto casa mia fortunatamente fu poi liberato però in connesso ad interessarmi a questo problema e capì che era molto più complesso di quello che pensavo andavo a visitare le piazze di spaccio milanesi come il boschetto di Rogoredo dove purtroppo rivedi la mia paura principale, le seringhe a Porta Venezia, stazione centrale, Parco Sempione insomma mi feci un giro di brutte zone e allora mi sono comprato un orologio spia e durante il mio servizio a Porta Venezia ho appunto raccolto la prova di questi tizi che effettivamente spacciavano e l'ho da inconsegnare alle forze dell'ordine dove un esponente delle forze dell'ordine mi disse che ero un Brumotti dei poveri mi insultò per chi conosce Brumotti, uno che fa servizi contro la droga 100% Brumotti esatto e mi disse che poteva denunciarmi perché ho violato la legge perché non era compito mio eccetera eccetera allora io demoralizzato ho detto beh ma perché devo fare una cosa contro la legge se poi se nell'aiutare devo essere pure aggredito pulito certo esatto allora per un po' mi sono arreso mi sono concentrato ad altro ero solo un ragazzino in realtà lo sono anche adesso qualche anno dopo invece due anni fa uno o due anni fa ho ricominciato questa mia attività perché ho visto che sui social era esploso il fenomeno delle borsizzatrici il famoso fenomeno delle borsizzatrici e ho detto scusa ci sono altri giovani che si impegnano nella nella denuncia degli illeciti io perché non posso continuare a fare quello che facevo lo fanno anche altri contro le borsizzatrici ma sono sempre delinquenti allora ho ricominciato ed ero l'unico praticamente in Italia oltre appunto a Brumotti che lo faceva ho cercato molti aiutanti purtroppo la gente ha paura perché giustamente la gente ha famiglia amici ragazzi così io invece pur rinunciando una vita diciamo normale è questa il mio fardello che mi porto sempre ho deciso di portare avanti questa questa battaglia certo perché purtroppo oggigiorno le persone di fronte a un'ingiustizia preferiscono girarsi dall'altra parte che intervenire preferiscono dire io non ho visto nulla continuo per la mia strada nonostante loro forse non capiscono che un giorno potrebbe succedere a loro e se tutti fanno così nessuno aiuterà mai nessuno esattamente io quando sono stato aggredito al parco Sempione qualche settimana fa mi hanno rotto il cellulare e dovevo chiamare i miei per farmi portare a casa perché ancora non ho la patente diretta sono in diretta scusa è il bello del video registrato in diretta è il bello del video registrato in diretta e dove ero rimasto e mi avevano rotto il cellulare e io dovevo dovevo trovare un modo per chiamare i miei per farmi venire a prendere e tornare a casa perché non ho ancora la patente e ho detto tutti quanti al parco Sempione potete darmi una mano che mi ho fatto pure vedere il cellulare rotto mi hanno rotto il cellulare e devo chiamare qualcuno per farmi venire a prendere e non posso non ho nessuno insomma e gli altri dicono no 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 probabilmente perché pensavano che fossi un truffatore o un ladro probabilmente sì però nel senso non ne avrei fatto nulla fortunatamente è stata una ragazza che poi mi ha aiutato e mi hanno fatto chiamare ogni tanto se trovo ancora qualcuno sì 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 all'inizio dubitava anche lei però fortunatamente poi mi hanno aiutato e poi è stata la seconda volta che sono stato aggredito al parco Sempione per la seconda volta due volte nello stesso punto due volte che ci andavo e due volte che mi hanno aggredito però c'è comunque anche da penso anche da ammirare il coraggio di una persona sola che si mette a ad affrontare tanti cioè roba che neanche le persone che odorebbero farlo di mestiere lo fanno tutto questo cioè veramente qualcosa poi organizzarsi un orologio spia cioè neanche Brumotti forse quello cioè Brumotti lo fa con penso con 3-4 camera a meno a fianco o comunque con penso che non vada proprio da solo non lo so se ci vuole illuminare il signor Brumotti e intervenire un giorno ce lo dirà ma non penso sia proprio da solo come lo faccia il nostro Thomas che lui veramente è da solo c'è un amico che conosce Brumotti che me lo vuole far presentare quindi magari un giorno glielo crederò a lui personalmente però no non a lui mi dicono sempre che lui va con la scorta tante volte io no eh sì sicuramente va con la scorta perché comunque se succede che ci sono 30 spacciatori lui da solo ovviamente che cosa deve fare nulla veramente è un ragazzo da ammirare oltretutto vorrei anche ricordare che Thomas fa tutto questo gratuitamente cioè non è che ci guadagna qualcosa anzi quando gli hanno rotto gli occhiali il telefono o altre cose comunque se l'ha dovuto ricomprare questa casca sua quindi per tutti quelli là che poi lo accusano mi dicono no ma lui lo fa per mettersi in mostra di qua di là insomma si mette in mostra a dire che gli rompono le cose che ci deve rimettere la tasca sua alla fine non lo fa per un secondo fine come potrebbero farlo tanti altri io faccio parte di un comitato come tutto sicurezza per Milano pubblico quindi si può benissimo nominare parlare non 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 mento nel dire che tra tutti quelli che ne fanno parte io sono quello con meno visibilità quindi che senso con meno visibilità e hanno dato magari più spazio ad altri facendogli andare più volte in tv mostrandoli di più nei social e invece io sono quello con che chiamano persone che lo conoscono perché appunto hanno hanno preferito quelli del comitato il presidente diciamo del comitato dare più visibilità ad altre persone del comitato invece che a me quindi non è per niente per questo perché se fosse per quello non mi sarebbe partita la vocazione come dicevo prima già da bambino tu hai sentito proprio la chiamata a questo non è per altri secondi fini esatto però dici tu affronti la criminalità usando qualche arte marziale qualcosa hai delle armi in che modo ti proteggi sul campo insomma allora l'unica cosa che mi è servita veramente finora in campo è stata innanzitutto la mia affidabilissima armatura che non è proprio una vera e propria armatura è una protezione che ho comprato online che mi protegge perché quando a novembre dell'anno scorso quando mi hanno buttato per terra due spacciatori lungo le scarie della metropolitana se non avesse avuto l'armatura che mi proteggeva lungo la schiena probabilmente non so cosa mi sarebbe successo alla schiena però per fortuna così ho limitato i danni e poi lo sprepe peroncino con quello ho allontanato un bel po' di spacciatori quindi ci puoi certificare che funziona lo sprepe peroncino sì 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 quello sì cioè come nei film cioè butti giù veramente una persona no no allora buttare per terra no perché quelli che mi hanno aggredito erano molto più grossi di me e resistono tranquillamente allo spray però sì sì il mio è stato più un'intimidazione per fare le maniere indietro ma se mi volevano veramente aggredire con o senza lo spray mi avrebbero comunque aggredito perché lo sprepe peroncino se una persona ti vuole veramente picchiare con me una volta mi ricordo che uno mi ha preso il fischietto da qua me la scuola volta sempre ne chiamano aggredito io l'ho spruzzato dello spray nonostante fossi vicino ai suoi occhi ed eravamo faccia a faccia lui è riuscito comunque a buttarmi per terra dopo si è lamentato degli occhi che li bruciavano così ma ha messo l'aggressione ha resistito e mi ha buttato subito per terra però cioè quindi non è come nei film che fanno vedere che poi uno viene tutto fermato dieci minuti dallo spray dopo dopo si dopo si subito no ci sono ti vuole veramente piccare la cattiveria in corpo almeno un colpo te lo dà ah ecco però diciamo che comunque serve nella tua difesa personale certo certo sì soprattutto secondo me alle donne che sono più in difese diciamo a meno che vabbè uno non fa arti marziale non è una campionessa di kickbox o di qualche arte marziale però in generale certo certo interessante quindi comunque tu ti proteggi con un'armatura con delle piccole armi poi ti alleni anche personalmente immagino che tu fai un discreto training per diciamo tenere testa ai tuoi avversari sì purtroppo mi è servito poche volte perché sì vabbè magari negli spostamenti magari più la cosa che mi ha strumento di più secondo me tante volte invece più la strategia la tattica perché la prevenzione sapere ma se mi metto di qua però una via di fuga se gli altri mi circondano però lì ho comunque la via di fuga perché basta che salto lì basta che una volta a Rugoredo io non parlo mai di Rugoredo perché è stata l'esperienza peggiore della mia vita il servizio che ho fatto ad agosto il maledetto primo agosto ero ritornato per l'ennesima volta in un punto in cui non ero mai riuscito ad entrare all'inferno di Rugoredo lo chiamano così giornalisti e sono entrato lungo i binari perché c'era un tossicodipendente che ero riuscito a fermare e fingermi anch'io tossicodipendente e non so come abbia potuto credere che ero tossicodipendente perché vabbè non io ho proprio la faccia credo però comunque c'è cascato mi ha chiamato a provare a dirmi no ma a quest'età ti droghi guarda che quella lì è droga pesante se vai lì non ti conoscono potrebbero farti storie ho detto ho inventato una scusa un nome falso ma comunque ho portato dagli spacciatori facendomi pastare a Rugoredo attraverso i binari io non volevo farlo però cosa facevo stavo per documentare qualcosa che pochissimo avevano documentato quindi ho detto vabbè ci vado comunque nel frattempo mio amico era fuori che mi faceva da come si può dire da da palo diciamo sì e sono arrivato lì e una volta documentato lo spaccio di droga non so cosa mi abbia preso la rabbia probabilmente di quello che ho visto anche da bambino così mi è venuto proprio da da fare quello che facevo sempre solo che lì non era il caso di farlo perché non c'erano le persone ero un po' isolato e ho detto attenzione poi ci sono spacciatori vendono morti giovani proprio l'ho rullato quel fischietto così e sono subito scappato via ho alzato la mia telecamera nascosta che mi porto sempre 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 qua e mi hanno sgamato e mi hanno rincorso con vari macete e vari vari wow roba a guardia io ho avuto paura non per i macete devo dire la verità ma perché lì c'era un botto di siringhe e appunto è la mia fobia io se vedo una siringa va di incri perché mi ricordo non ce la faccio avevo paura che qualcuno mi avesse che ne so pugnalato così poi alla fine ho fatto l'esame non c'avevo niente però era appunto solo nella mia testa certo perché poi non c'avevo la fobia io personalmente forse avrei avuto più paura dei maceti io personalmente lo so però no io no perché sono scappato volevo scappare poi invece il mio amico mi ha detto guarda noi eravamo comunque in chiamata nell'auricolare mi ha detto ma no che cosa hai fatto non dovevi urlare non tornare dove sei venuto non tornare in questa entrata qua da dove sei entrato perché stanno arrivando altre persone che gli stanno sbarrando la via di uscita cerca un'altra via di uscita allora lì sì che nel panico ho avuto come metodo di difesa l'idea di dire devo uscire il cuore dal bosco dai binari io devo c'erano dei guardrail nell'autostrada ho scavalcato non so quanti quadri non so quanti autostrade strade nel frittempo che passavano le macchine in corsa e sono uscita a scappare così e ho trovato riparo da un distributore di benzina IP poi gli ho fatto pure l'intervista mi ha detto guarda tu sei abituato a gente spacciatori sempione centrale questi qua ti ammazzano questi qua ti ammazzano non sono come gli altri questi qua sono diversi e c'avevo ragione posso confermare anche se questi sono più pericolosi quindi sì 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 a Ruggeredo che tu affronti normalmente sì sì a Ruggeredo ti ammazzano ti ammazzano e volevano ammazzare anche me non ne ho parlato mai con nessuno e ragazzi io sto dicendo una cosa che raramente racconto perché per me è veramente un inferno perché lì dentro prima di incontrare quel tossico lì che mi ha portato poi dagli spacciatori ho visto una mamma con un passeggino con una bambina che andava a fare su una dose la madre che zoppicava perché lì il percorso è un po' lungo doveva essere di tutti i colori veramente zombie che camminavano gente che proveniva da tutte le parti del nord Italia che il muschetto di Ruggeredo è famoso è famosissimo per lo spazio di Jerovina soprattutto c'è una madre che va di là cioè finché lo fa da sola tra virgolette può anche andare bene ma che si porta anche la figlia col passeggino che immagino fosse stata molto piccola se aveva il passeggino la figlia o il figlio sì cioè così proprio avere molta malattia molta incoscienza cioè così è troppo di per sé anche farsi di ruina per carità però qua stiamo superando penso ogni limite stiamo parlando che una mamma fa una cosa del genere infatti io vado contro queste persone non solo perché di per sé è sbagliato ma perché la gente che mi scrive nei commenti guarda chi si droga può farlo perché è una cosa che incide solo su quella persona di che si droga lascialo ognuno decide di per sé il problema è che ragazzi non è così che si droga poi prima o poi coinvolge anche le persone a cui vuole bene che lo circondano e crea degli eventi e qui poi non si torna facilmente indietro quindi non è vero che uno è libero di drogarsi perché uno può fare quello che vuole del suo corpo non è vero esatto poi si rischia anche che comunque cadendo tu in tossicodipendenza se hai una una moglie o una figlia dei figli poi anche che loro non si drogano comunque questa cosa se tu stai male ricade anche su di loro quindi si fai male solo a te ma fino a un certo punto perché poi fai male anche agli altri esatto però c'è veramente roba assurda quella che hai detto là del bosco io non ci voglio tornare più adesso mi hanno proposto qualche giorno fa di ritornarci forse con Brumotti e con Brumotti ancora ancora ma perché ce l'ho scolta però anche però anche lì io ragazzi a Polari sto tremando non rende però sto tremando non per il freddo perché sono dei ricordi che facilmente mi toglierò tanti possono dire vabbè se la sei cercata sì è vero me la sono cercata però per fare qualcosa che alla fine era in fin di bene sì non questo tanti diranno sicuramente che te la sei cercata tanti diranno tante cose però si deve anche dire la verità hai avuto il coraggio di fare quello che neanche Brumotti fa perché lui lo fa con la scorta io non so se questi siano armati se siano però già che già che non sei veramente da solo è già tutto molto differente la cosa che volevo dire che mi sono dimenticato è che quel giorno lì dopo ti racconto anche al Sempione che lì ancora una roba anche lì assurda che quella volta lì a Rugoredo quando tu potrai dire ma perché non ha chiamato nessuno il tuo amico che era lì da farti da palo perché non ha chiamato ha chiamato le forze dell'ordine sono arrivate lì cosa è che non gli hanno detto le forze dell'ordine e noi non possiamo entrare e lui gli ha detto giustamente seppure ha arrabbiato tantissimo con loro gli ha detto ma scusate ma voi siete le forze dell'ordine come non potete entrare lì se non potete voi chi è che può scusa e non sono cioè io potevo morire lì dentro veramente e l'ero abbandonato da tutti da tutti il mio amico non aveva il coraggio di entrare il mio amico ci ha fatto entrare la polizia a quanto pare era limitata ma quel posto andrebbe smantellato ma oggi ma oggi è limitata anche da e comunque non è neanche colpa loro ci teniamo a dire sono limitati anche loro dalle leggi dalle imposizioni magari comunali o provinciali quindi in realtà sicuramente loro avrebbero voluto intervenire o fare di più però sono ordini che partono da altre situazioni non dalla polizia stessa sicuramente o comunque dalle forze dell'ordine perché comunque loro comunque svolgono un grande lavoro nel renderci sicuri però ovviamente se vengono messi dei limiti loro giustamente li devono rispettare se vengono messi questi limiti certo io ho fatto il concorso mi sono riuscito al concorso per diventare militare con lo scopo poi nel futuro di fare il trasferimento in un corpo di polizia non ho voluto proseguire perché appunto ho detto vedendo come sono le cose a Milano ma sono sicuro non solo a Milano ho detto ma scusa io devo fare una cosa che mi piace fare devo portare avanti la mia vocazione seguendo gli ordini di una persona che potrebbe essere come quella che all'inizio mi aveva detto di fermarmi perché ero io il criminale e non quelli a cui stavo andando contro persone che potrebbero dirmi di fare cose in cui io non sono d'accordo moralmente no e devo fare del bene secondo quello che io penso sia veramente il bene secondo i miei criteri morali non prendo ordini dall'alto che magari quell'alto addirittura mi limita e quindi mi sono tirato indietro e poteva essere un'opportunità anche di lavoro quella e ho rifiutato per per questo rifiutato per senso del dovere sì anche anche per quello però sì invece al Sempione però a volte mi hanno aiutato peccato che sempre lì la legge prevede che se un cittadino onesto denuncia uno spasciatore perché viene aggredito anche lo spasciatore può denunciare e ha aggredito lui cioè io mi sono diviso contro lo spasciatore lo spasciatore ma contro denunciato perché mi sono diviso con il semplice spray come dicevo prima quindi anche questo è assurdo sono un po' i paradossi che esistono nella nella legge perché la legge comunque è fatta di per sé la legge italiana è bella perché è fatta perché è fatta per far sì che nessuno si faccia male la legge italiana vuole questo né che chi viene aggredito né che l'aggressore si faccia male tuttavia questa benevolenza della legge italiana porta anche a situazioni paradossali come addirittura chi viene aggredito a volte subisce una denuncia dall'aggressore solo perché si è difeso poi sì sicuramente ci saranno video ci saranno prove uno dirà no ma lui mi ha aggredito insieme ai compagni io solo ho spruzzato spray ok quindi risolto finisce lì si è risolta la situazione tu eri nei limiti della difesa personale il problema è che questo paradosso di benevolenza crea comunque un disagio perché se ci sarà un processo comunque il nostro Thomas dovrà andare in tribunale quindi ok lo dimostrerà sicuramente perché alla fine sei solo difeso però voglio dire io mi sono difeso e vado pure in tribunale perché mi sono difeso questo è un po' il paradosso della legge italiana della legge in materia di difesa personale dell'Italia torse meglio quella americana non lo so forse meglio quella svizzera non lo so dipende anche dalla circostanza della situazione tuttavia sicuramente ciò che è successo a Thomas è molto paradossale io mi sono difeso e quello lì mi ha denunciato quindi staremo a vedere cosa succederà adesso gli affidatori sono scomparsi e comunque quelli che ho spostato lo spray e che ho denunciato sono scomparsi comunque perché tornando al parco Stempio un'altra volta lì per poco racconterò che mi hanno aggredito anche quella volta lì in cui sono tornato non li ho più visti e neanche la volta dopo in cui sono tornato perché mi avevano aggredito ma sono tornato per la terza volta perché io non mi arrendo mai e questo loro lo stanno benissimo e io quello che ho sempre detto è questo non sono un supereroe perché non lo sono non sono un eroe perché non ancora non mi ritengo essere un eroe ma non mi arrendo mai e non arrendermi mai è l'unico l'unico superpotere che ho che ho io e che abbiamo tutti noi abbiamo che possiamo avere tutti noi è l'unica forza che possiamo avere contro certe persone non arrenderci mai combattere quello che riteniamo giusto sono tornato al parco Sempione per l'ennesima volta in cui volevo più che disforbarli volevo raccontare in realtà come era andata la volta in cui mi avevano aggredito perché non avevo ancora pubblicato niente a riguardo e passeggiando lì ho beccato guarda caso delle mie compagne di scuola dell'Ipsia posso benissimo dirlo in una scuola pubblica insomma dell'Ipsia ok comunque tu mi hai in scuola esatto e quindi io insomma non andavo a scuola proprio a Milano c'era un po' di distanza tra la scuola che facevo io e Milano quindi se una persona va lì è perché proprio vuole andare vuole andarci per uno scopo certo e dici e vabbè era lì a divertirsi ci sta è un bel parco no perché poco dopo mentre avevo iniziato la diretta su Instagram per raccontare come era andata ho visto che si è seduta vicino a uno spacciatore che era amico di uno che c'era l'altra volta quando mi avevano aggredito e gli ho detto vabbè sapevo che nella mia scuola girano certi tipi così e vabbè cosa ci posso fare farò il mio solito servizio e mi vedranno per la prima volta anche loro anche alcune ragazze delle mie parti mi vedranno chi se ne frega sono andati in tv chi se ne frega se mi vedranno questi tipi ho iniziato a raccontare cosa mi era successo e ho iniziato ad insultarmi ad insultarmi o giustamente dopo un po' ho risposto io solito non cado nelle tranelle perché quando mi insultano non ricambio mai con l'insulto ora in questo caso qua le mie compagnie di classica che avevano ovviamente riconosciuto hanno detto allo spacciatore insulti che i miei vecchi bulletti delle superiori dicevano a me cioè hanno usato perché io alle superiori sono sempre stato un pochino preso di mira dai bulletti sull'autobus sul pullman e anche a scuola e quindi queste qua hanno ripetuto le stesse cose che mi dicevano i miei bulletti agli spacciatori che hanno usato contro di me allora io poi ho perso il controllo e ho sbagliato ho sbagliato ho preso il megafono e ho urlato cioè non urlato perché ho tenuto un volume moderato diciamo tanti bullizzotti mi hanno detto che comunque si poteva fare quindi non è quello il problema quello è l'ultimo dei problemi e ho detto io qua voglio fare un appello oggi perché la gente purtroppo qua viene a spacciare mi sono stato ad insultare a circondare e lì ero talmente arrabbiato che questi qua avevano usato questa cosa contro di me che non ce l'ho più fatta e sono rimasto lì sono rimasto lì per un bel po' e abbiamo avuto questo scambio questo dialogo questo confronto con questo spacciatore qua allora dopo un po' loro se ne sono andate via anch'io stavo per andarmene via perché ormai avevo liberato un po' la piazza i poliziotti fino a quel momento lì non si erano visti purtroppo sempre l'assenzione ovviamente e stavo andarmene via stavo cliccando il pulsante di chiusura della terminata della diretta quando uno spacciatore sbuca all'improvviso da una siepe perché loro ho l'impressione che nascondono qualcosa in quelle siepe li usano come nascondiglio infatti tante volte loro usano dicono vieni la siepe che ti diamo lì la droga per non farsi vedere e sbuca all'improvviso ero circondato quindi devo stare attento a uno devo stare attento all'altro sottento uno magari lo allontano faccio quello che passa indietro mi metto in una posizione in cui sono in sicurezza da quello che all'improvviso c'è l'altro che ti aggredisce quindi lì non ho fatto veramente in tempo reagire nonostante ero pronto sta vicina mi tiro un ceppone mi tiro un puno mi tiro un calcio quello che e non ce l'ho fatta perché era proprio all'improvviso mi metto in sicurezza da uno come dicevo prima e l'altro mi aggredisce mi ha preso il cellulare mi ha sferrato il cellulare dalle mani mi ha spinto per terra e mi ha spaccato il cellulare violentemente a terra ed è lì appunto quella volta lì che appunto ho cercato riparo dalle persone dicendo guardate mi hanno spaccato gli occhiali e le persone se ne sono strafregate e poi ho trovato quella ragazza lì che mi ha aiutato la cosa che mi fa più più nervosire è che quelle lì adesso avranno mandato questa è una cosa mia personale hanno mandato il video di io che magari vengo aggredito perché comunque essendo loro nel giro gli avranno mandato poi il video e altri spazzatori che erano lì presenti così io che cado a terra io che vengo comunque umiliato spaccato il cellulare così ad altri miei coetanei magari della mia stessa scuola delle mie stesse parti questo mi fa abbastanza nervosire però è stato veramente io non volevo più tornarci lì ma io ti dirò questo se lo hanno fatto probabilmente è più a svantaggio loro che tu perché significa che comunque loro si mischiano queste persone qua sicuramente questi tuoi compagni di scuola non vogliono far sapere questo quindi non credo l'abbiano mandato su questo non credo però ti dico è già grave è di per sé è molto grave il fatto che tanti giovani tanti ragazzi per sentirsi un minimo importanti si debbano accumulare a queste persone qua o debbano frequentarle debbano debbano sentirsi debbano sentirsi magari fighi stando insieme a questi spacciatori qua perché comunque la realtà adesso diciamoci le cose come stanno la realtà è che queste persone qua di fronte a persone come queste ragazze qua tuoi compagni di scuola che magari non hanno interessi non hanno hobby non hanno nulla a loro sembrano i più fighi del mondo perché alla fine è questo che succede molti vengono attirati in questo mondo da questo sono persone sostanzialmente deboli senza uno scopo nella vita vedono queste persone qua che comunque qualche soldino lo gireranno in più vedi oh non lavori fai il figo perché stai di là fai questo spacci tutto e quindi vengono attirati da questo mondo qui e finiscono per entrare in questa trappola poi inizieranno a drogarsi inizieranno magari a vendere anche loro finché non arriveranno a 40 50 anni che si renderanno conto delle cazzate che hanno fatto e poi faranno tutti i santarellini dicendo che loro non c'entrano nulla quindi di base dovremmo pensare anche credo io a recuperare i nostri giovani magari a educarli meglio a educarli che la loro vita ha un valore non a non a stare al parco sempione o a quell'altro parco lì a farsi di eroina a tirare di cocaina cioè per quanto queste siano cose che per carità magari io non le ho mai provate adesso non è che mi sono drogato non mi sono mai fatto di eroina anche io io immagino questo lo immagino che comunque farsi di eroina un minimo di piacere lo dia farà anche male però un minimo di piacere è innegabile che lo dia altrimenti non te lo fai questo è innegabile penso però dovremmo educare i nostri giovani che il piacere non si raggiunge tramite un qualcosa che tu ignetti nel corpo ma si raggiunge tramite altre cose io posso stare bene non necessariamente drogandomi fumando ubriacandomi ma anche con altri metodi posso stare bene uno potrebbe essere l'allenamento potrebbe essere uno che fa meditazione potrebbe essere viaggiare potrebbe essere studiare quello che ti piace tutto quello che vuoi non lo so ognuno ha la sua cosa che la rende felice ma quello che io vorrei far passare tramite anche questa live vorrei dire ai giovani ragazzi se ognuno ha la testa per pensare quelle cose lì per quanto possano essere fighe attrattive e tutto sono il male e il male rimane il male e una volta che uno inizia a fare il male il male lo pervade e alla fine finisce per trasformarsi in quel male sicuramente queste ragazze qua sui compagni di scuola che all'inizio magari erano anche da poco con quegli spacciatori lì magari non erano da tanto tempo sicuramente perché avendo l'età di Thomas che avrà 20 anni mi sembra che hai Thomas giusto 19 quindi voglio dire la scuola sarà appena finita credo magari sono là da 3-4 mesi con questi spacciatori qua adesso ancora non si rendono conto però poi un giorno anche la loro vita cambierà io spero che se vedranno questo video torneranno sui loro passi non dico che devono chiedere scusa fanculo le scuse non ce ne frega niente basta che basta che smettono di fare quello che stanno facendo e iniziano a farsi una vita come Dio comanda e questo lo dico anche a tutti i ragazzi che hanno intenzione di iniziare a drogarsi o di perdere tempo il sabato sera obbiacandosi tutti i giorni o cose così esatto perché io quello che dico spesso è che tutti abbiamo i nostri problemi tutti ho detto una volta anch'io proprio anche gli spacciatori sempre col microfono ho detto tutti abbiamo i nostri problemi forse io per le cose che ancora non ho detto qui forse io ancora di più però di certo non non mi metto a drogare ad affrontare i problemi drogandomi obbiacandomi e poi si si affrontano col coraggio con la volontà e anche con un po' di sacrificio perché a volte per fare la cosa giusta bisogna mostrare carattere e rinunciare alla cosa che desideriamo di più anche ai nostri sogni quindi esatto citazione a zia me comunque padermi in due poi comunque anche anche se uno ci avesse dei reali problemi non è che drogandosi ebriacandosi fumandosi questi problemi si risolvono anzi aumentano e basta quello lì per quanto possa essere un piacere momentaneo rimane un piacere momentaneo che finisce poi i problemi ritornano e ritornano aggravati anche dal fatto che stai usando droghe o alcol pesante anche l'alcol che uno dice così se vai a vedere l'OMS dice che l'alcol fa più male delle sigarette causa la cirrosi l'etanolo il cancerogeno tutti quegli altri problemi che noi stiamo qua a indicare e le droghe è lo stesso quindi ragazzi non vi drogate fate altro cioè dai la verità esatto ma poi la gente viene a commentare nei miei video aggredendomi anche e vabbè ma tu lo sai che comunque l'alcol fa più male della droga così della marijuana così e quindi tu non devi andare contro quegli spacciatori che tanto sono solo dei commercianti aspetta aspetta commercianti bisogna vedere perché i commercianti non insultiamoli perché i commercianti sono quelli che si vanno a spaccare la scena la mattina la sera pagando pure le tasse facendo un lavoro onesto e quello non è spacciare non è un lavoro onesto e comunque è vero sarà anche vero che la marijuana non fa male come l'alcol però cosa vuol dire se una sostanza non ti può uccidere non ti può far male tanto quanto l'altra allora è comunque giusto assumerla cioè no non so se come perché fa male perché può avere delle conseguenze e punto e basta poi fa niente rimane comunque opinabile perché sì ci sono ricerche che dico perché molti tipo molti questo però lo dicono solo quelli che fumano marijuana perché se non fanno marijuana non lo dici esatto esatto molti che dicono che fumano marijuana dicono no io ho visto delle ricerche che dici che fa bene esatto è vero può anche starci in realtà non è che fa bene la marijuana di per sé fa bene il CBD il THC che sarebbe quello che ti sballa non fa bene quello che ti sballa fa bene il CBD quindi l'erba medica quella sì fa bene ma in determinati casi fa bene non sempre è come se uno prende l'ibuprofene o la tachipirina e non c'ha niente in quel caso non fa bene tant'è che se uno prende troppa a tachipirina muore ha un collasso mi sembra ai reni al fegato e muori e so che è anche molto doloroso quella morte lì non mi ricordo esattamente cosa collassa adesso sicuramente arriverà un medico nei commenti che mi farà pezzi però io mi ricordo che collassa non mi ricordo se è fegato o reni o pancreas una di queste tre cose collassa comunque e muori soffrendo come un cane quindi anche le medicine come può essere anche l'erba medica che contiene solo il principio al tipo del CBD per quanto possa fare bene in determinate situazioni in altre fa male senza contare che si fa bene in determinate situazioni ma comunque tu stai bruciando qualcosa stai mettendo nei tuoi polmoni qualcosa che brucia in quel caso la cartina perché comunque l'erba medica sempre si fuma in quel caso la cartina comunque tu la stai aspirando ti tieni tutta quella la carta il fumo della carta nei polmoni quindi hai un'altra cosa che fa male si ti sistema da una parte ma ti fa male dall'altra quindi anche di là non so quanto sia proprio così conveniente fumare l'erba medica esatto o poi la gente diceva ma se la legalizziamo togliamo soldi alle mafie togliamo anche lì tanti non saranno d'accordo e va bene però io sono la mia opinione che è quella che ha detto anche ha affermato anche Paolo Borsellino più volte in un'intervista cioè che anche se noi legalizzassimo le droghe leggere comunque verrebbero legalizzate per certi tipi di persone di certo non i minorenni purtroppo i minorenni fanno tanto uso di queste sostanze qua e a chi si rivolgerebbero i minorenni è i soliti spacciatori che la vendono sotto forma insomma insieme ad altre sostanze molto più nocive e quindi questo è il primo punto del perché non servirebbe a nulla secondo ci sarebbero comunque dei limiti nel senso che uno non potrebbe prenderne più di un certo tot ci sarebbero un po' di paletti diciamo voi pensate che tutte le persone rispetterebbero rispetterebbero quei paletti lì? ovviamente non penso non penso e a chi andrebbero a rivolgersi agli spacciatori che fanno quindi è vero magari un pochino glielo togli ma a parte che la mafia opera opera con tanti di droghe quindi ne levi una sono tutte le altre e le altre non puoi legalizzarle perché le altre non è possibile se la marijuana puoi anche pensarci perché tanti dicono vabbè come prima poi abbiamo visto che anche lì non è così beh ma quella lì non fa male perlomeno non è così non fa troppo male esatto esatto comunque come fai a legalizzare la cocaina e le ruine scusa quelle lì sono sostanze che ti portano in una sola direzione la morte la morte o comunque momenti molto molto brutti e voi mi dite che volete legalizzare una sostanza che può portare a questo ma ci siete o ci fate non si può certe sostanze certe sostanze non puoi legalizzarle perché fanno più male che bene ed è giusto che ci sia un limite il limite però bisogna porlo non bisogna dire eh vabbè ma tanto ma anche questa cosa della marijuana in realtà se tu la legalizzi cosa succede che devi no no nel senso cosa succede qual è saranno gli eater saranno che tu Thomas Briggio domani ti potrai aprire un coffee shop come c'è in Amsterdam quando tu ti apri questa cosa qui devi pagare l'affitto devi pagare la luce devi pagare le tasse e tutto la marijuana alza il prezzo devi pagare le tasse che su queste cose saranno altissime quindi alla fine cosa succede io vado da Thomas a comprarla mi costa quattro volte lo spacciatore elettrogaso allora io sono deficiente che vado da Thomas invece dello spacciatore elettrogaso no quindi si un pochino la togli dalla strada ma leggermente perché la maggior parte andrà comunque di là è come non mi ricordo a che età adesso in Italia adesso io non sono più in Italia per chi non lo sapesse comunque in Italia c'è un limite all'alcol non si può bere mi sembra prima dei 16 anni se non sbaglio in teoria in teoria è così ma voi vi pensate veramente che i ragazzi di 15 non lo bevono vi pensate veramente che non possono aprire l'armadietto del genitore e pigliarsi anche il super alcolico o che mandano l'unico 16enne che c'è a comprare l'alcol per tutti non serve un cazzo legalizzare serve soltanto educare le persone questo serve punto non è inutile che tu gli metti un paletto ad una persona perché tanto più una cosa la proibisci più quello va avanti più la accetti più comunque c'è un modo che costa di meno che conviene tu devi soltanto educare la persona una volta che tu educhi la persona gli fai buttare la sigaretta gli fai buttare droghe alcool vizi lo Stato ha fatto quello che deve fare una volta che ha fatto queste cose qua è inutile pensare a super tasse super vincoli super di qua non serve a niente è inutile secondo me esatto sì sì sono d'accordo educare all'esatto le persone soprattutto partendo dai più giovani perché vabbè io sono appena riuscito da scuola posso dirlo perché anche da me hanno fatto vari progetti su contro la droga così però posso dire che tutti quei progetti che abbiamo fatto sono stati fatti veramente male cioè io sapevo più degli esperti che erano andati lì e a volte facevo quelle domande e loro rimanevano così così e sì però hai ragione cioè nel senso mi piacerebbe andare a parlare proprio direttamente anche con i miei coetanei a parte che vabbè secondo me anche questo non so se è fattibile perché se vedono loro coetaneo secondo me non mi farebbero manco parlare che inizierebbero a tirarmi uova a tirarmi tutti tutti di più vabbè dipende dalla scuola non è tanto il coetaneo una volta che un'idea viene installata nelle menti delle persone è difficile toglierla è difficile toglierla se non si educano da da piccoli a fare determinate cose è impossibile perché ci sono anche ricerche scientifiche che lo dicono se un bambino viene educato fin da piccolo in una certa maniera non lo togli da quella maniera cioè è molto difficile quindi anche parlare a ragazzi adulti non so quanto possa essere utile perché è meglio di non farlo però sarebbe meglio iniziare a educarle all'elementare queste cose il diritto civico non il diritto civico come si chiama quella materia non mi ricordo l'educazione civica esatto ci vorrebbe l'educazione civica fatta per bene da bambini che si inizia come? si inizia non buttando le cartacce per strada esempio poi certo non è che a 5 anni gli metti a parlare di droga che quello non sa neanche cosa sono però inizi dalle piccole cose poi piano piano andando avanti andando avanti arrivi anche le droghe e si evita si evita si evita di farli proprio provare queste cose perché io vedo anche tanti ragazzi di 10 anni 10 anni che mi smettano a fumare la sigaretta che la provano perché hanno visto il genitore che la fuma perché cioè se tu invece quel bambino lì lo educhi che non fa bene che fa male forse anche se vede il genitore non fuma così questo è una cosa un pensiero un po' mio anche però secondo me le persone vanno educate così da quando sono bambine questo non è che voglio dire che debbano diventare tutti dei robot tutti uguali però almeno a distinguere il giusto dallo sbagliato secondo me non sarebbe una brutta idea sì sì sono d'accordo però ritornando un attimo i genitori lì hanno un luogo hanno un ruolo secondo me molto importante insomma magari la scuola può insegnargli al bambino al ragazzino certe cose buone cose però se poi il bambino ragazzino si ritrova in una famiglia dove il padre e la famiglia gli insegnano l'opposto è ovvio che il bambino seguirà mi sembra è più probabile che il bambino per volersi sì sicuramente sentire più più voluto bene ascoltare la famiglia che sicuramente sì ma a quel punto sarebbe bisognerebbe che ne so dare una patente per i genitori per fare i genitori cioè quindi tu puoi procreare tu no perché sei un drogato e non puoi mettere figli al mondo cioè quello sarebbe purtroppo troppo estremo da fare sì sì sono d'accordo sì sì quello sì però c'è anche questa possibilità ecco c'è anche questa problematica qualche volta i genitori sono stessi loro che in edizione i figli non sono da purtroppo sbagliate sì sì quello sì però se tu ci pensi se uno inizia a educarli da bambino magari questa generazione qua la prossima la prossima generazione qua smette con l'eroina quella dopo ancora smette con la cocaina quella dopo ancora smette con la col fumo quello dopo ancora smette con l'alcol quello dopo ancora è come vogliamo noi tra virgolette cioè è anche una cosa graduale perché tu ovviamente non sarà una cosa che tu fai dall'oggi al domani così però se graduale io genitore sì ok però sono stato educato che le droghe vanno bene ma l'eroina no almeno mio figlio gli insegnano che l'eroina no poi mio figlio verrà insegnato che anche la cocaina no e lui insegnerà al suo figlio quello che al suo figlio verrà insegnato che neanche la marijuana no e andando così per gradi questa potrebbe essere un'idea sì sarebbe sarebbe bello sarebbe certo ci vogliono più di generazioni non è così facile sì quello sì comunque sì sono d'accordo sono d'accordo anche su questo sì sì quello assolutamente e mi preoccupo molto dei miei cotanni di dove questa generazione sta andando lì mi preoccupo troppo perché alla fine siamo 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 il futuro purtroppo non tutti sono come quelle mie compagnie di classe lì e ci ricordo comunque a tenere presente che invece ci sono tanti me aiutanti comunque nella mia stessa età giovani di 18 19 20 anni che fanno mi hanno aiutato a fare quello che faccio io mi hanno comunque scortato mi hanno portato non sempre assolutamente poche volte però comunque quelle poche volte l'ho apprezzato che mi hanno comunque aiutato a fare vari servizi che operano contro le borseggiatrici roba vabbè più leggera vabbè si sa però però anche quello lì è una lotta è importante esatto esatto quindi non è vero che sono tutti così c'è anche un altro ragazzo mio amico che si occupa di denunciare di questa lotta contro il degrado alle stazioni perché le stazioni dovrebbero essere un luogo dove le persone dovrebbero sentirsi comunque non un luogo di transito senza bisogno che uno si deve guardare intorno esatto mi ricordo un'altra volta ero alla stazione centrale di Milano c'era una persona che non lavorava là e stava di là e cliccava i biglietti per tutti sperando che qualcuno gli desse qualcosa ma era chiaramente un drogato non è che lo faceva perché sicuramente aveva anche bisogno però si vedeva lontano un miglio che quello lì si drogava e oltretutto aveva anche un atteggiamento scontroso e tutto che ti aiutava ma era molto scontroso quindi la dico è giusto anche segnalare queste cose è giusto anche evitare che queste cose accadano esatto però purtroppo se devo dire c'è solo domanda ma secondo te sono più giovani che si impegnano come te nella lotta contro i reati avere una vita corretta corretta vabbè corretta dal mio punto di vista non vuol dire che sia per forza corretto in generale però nel senso in un percorso che appunto di strada verso la legalità una legalità o quelli che vanno lì a spacciare purtroppo secondo me ci sono più ragazzi che preferiscono la la via sbagliata quella della droga quella dell'elinquenza quella dei furti è quasi che mi fa spaventare però giustamente mi sono sentito in dovere di dire però non sono tutti così sicuramente non sono la maggior parte così quello cioè io direi che sono un 50% così non tutti perché altrimenti se tutti spacciassero nessuno comprerebbe anche per una questione anche per una legge di mercato diciamo non può essere così che sono tutti realmente così se no dico la gente dicevo la gente non che proprio si sceglie all'inizio alla metà dove l'età in cui si sbaglia diciamo di più perché giovani adolescenti vabbè si sbaglia e scelgono strade scelte che fanno scelte sbagliate questo quello che questo che volevo dire sicuramente ci sono tantissimi che fanno scelte sbagliate tanti di questi a mio avviso lo fanno indipendentemente dai genitori lo fanno anche solo perché si sentono più fighi nel farlo o perché vedono un possibile guadagno facile molti sono attirati anche da questo semplicemente dai soldi perché comunque in uno stato in una nazione come l'Italia dove si va a lavorare spesso non si viene neanche pagati e uno inizia a dire ma perché devo andare a lavorare mi metto a spacciare sto tranquillo nessuno mi rompe il cazzo mi faccio i soldi quindi in realtà questo è un fenomeno che viene anche generato dalla situazione italiana non soltanto da effettivamente dalla voglia che uno abbia di droghe secondo me diciamo che diciamo che il paese ha tanti problemi non ha solo le droghe molti ha un paese molto problematico per carità io adesso sono in Svizzera comunque anche qua che non ci sarebbe bisogno di spacciare spacciatori ci sono partiamoci chiaro non è che non ci sono beh sì cioè alla fine è una cosa che è sempre sempre esistita no ma c'è e ci sarà sempre a prescindere dal benessere del paese in cui uno sta questa cosa qui ci sarà sempre però un conto è come in Svizzera che c'è però senza esagerare non si vede non che vada bene perché comunque è da condannare in ogni caso però almeno c'è e non c'è ma non disturba il prossimo tra virgolette invece in Italia la situazione è lo sbaraglio cioè il far west stazione centrale parco semplice tutto è il far west cioè ci manca solo Clint Eastwood che toglie la pistola e siamo al far west e quindi eh sì però posso dire una cosa che nonostante tutti i problemi di Milano ma non solo io amo la mia città fare qualsiasi cosa per la mia città non posso la mia città io intendo Milano perché vabbè non sono di Milano però per me quella è la mia città tanti la detestano perché anche adesso stanno uscendo un bozzo di video su TikTok di ragazze così che che dicono che si lamentano e sono stata molestata sono stata palpata lì a Milano al centro di Milano e video di migliaia di visualizzazioni di mi piace sì certo fate bene a farlo però non diciamo che Milano non è solo questo di queste ragazze che tante volte spesso dicono Milano sta diventando una città bruttissima invivibile veramente l'audio Milano ma non è solo questo Milano ha tante opportunità Milano ha tante opportunità un luogo di studio un luogo di lavoro un luogo che ha dato tanto a tanti e anche forse anche a troppe persone che non se lo meriterebbero Milano questa è una cosa che dico anch'io la gente prima di parlare di Milano prima di vedere cosa c'è di brutto a Milano dovrebbe dire dove eravate voi prima di venire a Milano io vedo tanti che si lamentano in Milano è caotica Milano di qua Milano di là voi prima di stare a Milano non facevate nulla prima di parlare di Milano sciacquatevi la bocca ci avrà anche i suoi problemi ma se c'è i suoi problemi aiutate a risolverli se vedete che ha un problema invece di girare la testa dall'altra parte esatto bravissimo bravissimo esatto quindi non è solo questo quindi faccio un appello anche a quelle ragazze lì che si lamentano su TikTok con migliaia di visualizzazioni e mi hanno palpata mi hanno dirubata mi hanno ricordati cos'è veramente Milano l'anima di Milano io pochi giorni fa sono stato di nuovo a Milano e vedere di sera tutti questi grattacini le persone che girano la bellissima metropoli non c'è non c'è io ho girato varie città e ti devo dire che le città più belle che io comunque ho visto sono Milano Londra e Hamburgo le altre Zurigo Schaffhausen Liverpool Costanza potrei continuare a fare un elenco sono paesini le città veramente belle sono in Europa che io ho visto sicuramente ce ne sono anche altre per carità sono appunto Barcellona Milano Londra Hamburgo ragazzi avere una città italiana in mezzo a queste è tanta roba tanta roba e quindi non dobbiamo dimenticarcelo dobbiamo essere onorati di avere Milano in Italia e di fare di tutto ciò che possiamo per migliorarla anche che sia soltanto magari non fare proprio la lotta allo spaccio come fa il nostro Thomas ma anche soltanto raccogliere da terra i pezzi di carta che gli stupidi buttano o tante altre piccole cose sarebbe già una sarebbe già una vittoria ecco certo poi se qualcuno mi aiuta non sarebbe mai se qualcuno se qualcuno vuole comunque contattate i profili i profili Instagram Thomas Brillo e Brillo Brillo scusa Thomas Brillo comunque lo leggete qua Thomas Brillo non Brillo Thomas quindi Thomas Brillo oppure Monster of Justice meglio meglio o Giustizia anzi come si fa chiamare adesso quello era il suo vecchio alias Thomas Monster of Justice ma vogliamo che torni perché era bello no ma comunque questo nome è un po' di passato perché appunto da bambino quando avevo quei problemi lì perché avevo paura di quelle siringhe lì non era l'unico problema che avevo perché era un bambino molto molto sensibile e purtroppo vedendo anche la minima cosa in tv mi spaventavo e poi appunto appunto di notte facevo i sogni in cui c'erano questi questi mostri che mi rapivano che mi mangiavano che ma non sogni dove uno dice vabbè che sogni potrebbe fare un bambino no io proprio vedevo vedevo sceglie scene spuntate fuori da un film horror per adulti nei sogni da bambino immaginazione li avrò visti da qualche parte al computer perché magari il mio familiare mi avrà lasciato avere accesso a certe cose a cui un bambino non dovrebbe avere accesso non lo so comunque veramente ho sognato brutte brutte cose brutte brutte facce che mi perseguitono anche adesso e quindi io poi ho detto ma più grande ho realizzato il fatto che gli mostri non esistevano erano solo qua e quindi ho detto io per combattere i miei mostri devo diventare anch'esso anch'io un mostro perché non esistono i mostri non esiste It non esiste Jason Jason non esiste Michael Myers non esiste non esiste non esistono esistono gli esseri umani sono loro che e devo proteggermi e sono loro i veri mostri e quindi io è appunto lì d'arrivo il nome Monster of Justice il mostro di giustizia poi magari era troppo aggressivo e l'ho chiamato in giustizia però se qualcuno mi chiama ancora Monster of Justice mi fa molto piacere molto piacere che alla fine voi mi vedete così e pensate ma questo è solo Thomas no io penso che la mia vera identità non sia Thomas Thomas è la mia parte debole la parte di quel bambino che non riusciva a dormire la notte quel ragazzo che quando andava a scuola all'elementare camminava attaccata alle pareti perché aveva paura che ci fosse qualche mostro qualche mostro misto spacciatore misto drogato che lo veniva a prendere a bucare con la siringa a fare Monster invece d'altra parte la persona forte quello che va ad ostacolare gli incubi di un bambino una dualità Bruce Wayne Batman più o meno quindi io lo dico nel familiare lo dico sempre loro ovviamente a loro non detestano sentire questa cosa qua però disprezzo quasi Thomas Brigio preferirei morire come mostro di giustizia che vivere come Thomas Brigio ci auguriamo che non morirai in nessun caso no però sai però sì sì abbiamo capito quello che vuoi dire allora Thomas siamo arrivati alla fine ti faccio un saluto e ci rivedremo qui per una prossima live vi ricordo a tutti ragazzi se vi è fatto piacere sentire l'intervista e ne volete ancora lasciate un mi piace iscrivetevi ai nostri canali social che poi verranno messi in descrizione e ci becchiamo alla prossima live grazie a tutti ragazzi buon proseguimento